Sto morendo, due ore che camminiamo con le scappe da Cittastica. Pecco, come sta andando? Pensiamo a qualcosa di più impegnativo, però bello, bello, un bel paesaggio. Tutto bello, a parte che abbiamo in base una casa, pensavamo che fosse una campagna. Si, fa parte del mestiere. E il drone dov'è? Il drone forse non può volare, non si sa, sentiremo nuovi aggiornamenti. Come va ragazzi, siete morti? Scusa, sto bene, sto sudando un po' sul culo, ma va bene. C'è il Dick che sta provando gli scarponi nuovi. Sto morendo. L'uovo Milite? Queste sono le cose belle. Ma come lavorano? Oppure vanno tutti a cazzo, non si sa. C'è niente di meglio di acqua dalla natura. Ok, siamo in crisi, abbiamo sbagliato. Siamo arrivati in un punto dove vi farò vedere adesso. E' in te con i veri, Pecco. Adesso. Adesso stiamo rifacendo la strada lì indietro. Dopo il percorso. Mamma, arriverò. Pausa. Pausa tecnica. Pausa, ci siamo. Eravamo giù là in fondo. Strong. Puttala. Ci siamo, stiamo tornando. Questo è il lago del Luzzone. Faci già più sorridenti. Siamo arrivati all'auto, raga. Pippo, l'abbiamo toccato. Il marino è morto, purtroppo. Esatto, l'abbiamo lasciato. Però abbiamo preso il suo zaino. No, neanche il suo zaino siamo riusciti a salvare. E' una vita difficile. No, non è lui. E' lui, è lui. Pippo, sei a token, a token, a token, a token. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo in auto, stiamo tornando a casa. Pit stop. Vittoriosi! Vittoriosi! Ma come voglio? E dopo andiamo alla Coppa. Ciao.